In questi tempi si parla tantissimo di appropriatezza e di tagli nel settore sanitario e in questi giorni al 36esimo congresso della SIFO se ne è parlato. Dottoressa Scroccaro, secondo lei quali sono i settori in cui sarebbe possibile risparmiare? I settori sono almeno un paio. Da una parte individuare le aree di inappropriatezza prescrittiva, l'Agenzia Italiana del Farmaco le individua, produce un rapporto, si chiama OSMED, e lì vengono individuate le aree dove si può usare il farmaco in maniera minore, quindi su meno prescrizioni. L'altro aspetto dove si può risparmiare è rivedere la politica del prezzo dei farmaci e quindi definire e assegnare dei prezzi a dei farmaci maggiormente proporzionati ai guadagni di salute che danno. Ecco, diceva che ci sono soprattutto dei campi in cui questo si nota maggiormente, ad esempio il campo oncologico. Sì, allora la spesa per farmaci oncologici è la prima voce di spesa tra tutta la spesa in ospedale. Molti farmaci oncologici aumentano la sopravvivenza di pochi mesi. Cosa vuol dire? Vuol dire che tra usare un farmaco nuovo e usare quello vecchio c'è una differenza ma solo di un paio di mesi di sopravvivenza in più. Ma la differenza tra il farmaco nuovo e il farmaco vecchio può essere di 5, 10, 15, 20 mila euro per trattamento. Quindi la mia proposta è che i prezzi dei farmaci oncologici quando i guadagni di sopravvivenza sono bassi sia un prezzo nettamente più basso. Per quanto riguarda invece le prescrizioni e il numero di farmaci, lo stesso Silvio Garattini ieri diceva che ci sono troppi farmaci in giro. E come si potrebbe razionalizzare? Dove si potrebbe andare a ottimizzare l'utilizzo dei farmaci? Allora, io non dico che ci sono troppi farmaci perché credo che sia giusto anche dare uno spazio al mercato. Ci sono molti farmaci simili ma questo non vuol dire che debba esserci solo uno. Ci sono 10 ditte che producono farmaci simili, è giusto che tutte lavorino e che ci sia la concorrenza. Il risparmio non si fa nel ridurre le ditte in commercio ma nel ridurre le prescrizioni. Allora noi abbiamo visto che ci sono tanti pazienti che assumono gastroprotettori e non ne hanno bisogno. Tanti pazienti che assumono le statine per l'ipercolesterolemia ma non ne hanno bisogno. Quindi l'intervento deve essere nel ridurre le prescrizioni. Quindi un intervento che richiede un impegno del medico a non prescrivere quando non ce n'è bisogno e un impegno dei farmacisti a verificare e controllare le prescrizioni. Sifo ha lavorato molto per potenziare quest'area. In che cosa si traduce praticamente? I farmacisti hanno la possibilità di conoscere attraverso le prescrizioni esattamente che cosa succede in un'area del paese. Può essere una usle, può essere un ospedale, una regione. E evidenziare quindi le situazioni che a meno apparentemente denunciano un uso improprio. Il lavoro successivo che poi deve fare il farmacista non è solo di elaborare questi dati. Deve elaborarli, deve analizzarli, deve illustrarli ai medici, deve discuterli con i medici e incominciare a fare anche un'informazione indipendente. Altrimenti noi ci troviamo in una situazione dove i medici ricevono l'informazione solo da parte dell'industria farmaceutica che ovviamente fa il suo mestiere e tende a vendere di più. Può essere che questo tentativo di ridurre le prescrizioni e di ottimizzare i farmaci utilizzandoli solo dove c'è bisogno incontri forse qualche resistenza da parte dei cittadini, qualche difficoltà a capire la riduzione di prescrizioni? Sì, questo è molto vero. Se il medico non spiega al paziente chiaramente che non ha una malattia che necessita del trattamento con gastroprotettore ad esempio, ma necessita di modificare una dieta, uno stile di vita, di muoversi un po' di più, di mangiare un po' di meno, di cambiare il cibo rispetto a dei cibi che possono essere migliori. Sicuramente se non gli spiega questo il cittadino tende invece a risolvere ogni problema con una pillola. Ha il bruciore di stomaco? Prende una pillola. Ha un po' di nausea? Prende una pillola. È un grosso lavoro che deve fare il medico. Se invece al paziente gli viene detto, mi dispiace, questo farmaco non te lo possiamo più prescrivere perché non ci sono più soldi, la vive malissimo il paziente.